non so bene come iniziare questo video perché non è classico post partita quello l'abbiamo già pubblicato è uscito su numero 10 quindi vi invito a scaricare l'applicazione il link lo trovate qui sotto nella descrizione e potrete vedere il post partita classico di juventus 4 in polizero quindi applicazione gratis ci sono dei contenuti esclusivi come questo specifico post partita e ci sono anche degli articoli che sto scrivendo quindi perché non fare un salto qui sotto in descrizione scaricare un'applicazione gratuita che comunque vi darà un'infarinatura generale nei momenti in cui non riuscirete a stare attaccati al calcio beh fatelo assolutamente e poi io in seconda battuta volevo portarvi già alle pagelle questa sera perché la partita è terminata tra pochi minuti è stata finalmente una juventus convincente e secondo me dobbiamo anche iniziare a goderci i momenti rari in questa stagione in cui le cose sono andate bene poi lo so era soltanto l'empoli assolutamente sì però io stasera la juventus ho visto fare delle cose interessanti e quindi non parlo delle altre è ovvio che non è un banco di prova attendibile non è un banco di prova interessante però se la juve inizia a fare quello che deve fare beh io non posso fare altro che esserne contento e questo risultato rotondo poteva essere ancora più rotondo e vedere al 92esimo la juventus in 11 nella linea nella metà campo avversaria a spingere la juventus ultra 0 al 92esimo a spingere alla ricerca del quarto ed effettivamente trovarlo dopo averne sbagliati mangiati tanti altri beh io sono contento e non posso fare altro che essere estremamente felice orgoglioso di quello che ho visto in campo poi del resto parleremo perché benfica martedì sarà sicuramente una partita molto più complicata difficile è ovvio che quando poi l'altra squadra inizia a mettere i bastoni tra le ruote diventa complicato ma noi già in questa stagione ci abbiamo messo del nostro fin troppo in alcune partite come quella del monza quella sampdoria la salernitana all'andata il maccabi ai fa il ritorno cioè la salernitana scusate il primo tempo non è andata noi ci abbiamo messo troppo negativo del nostro e invece quando cambiamo mentalità cambiamo attitudine cambiamo voglia grinta il modo in cui aggrediamo le partite perché stasera abbiamo aggredito le partite tutta un'altra roba e quindi pagelle pagelle juventus 4 empoli 0 e di solito la pagella di massimiliano allegri la facciamo all'interno dell'analisi del video me la voglio fare adesso invece perché allegri che sta parlando in questo istante si becca sette perché la partita l'ha preparata bene bene perché la juventus intanto continuità al 3 5 2 e stasera la grande differenza è stata la fase di non possesso con la juventus che ha deciso di difendere 3 5 2 di attaccare 3 5 2 senza cambiare cose in corsa no si è deciso di rimanere 3 5 2 in tutte le fasi di transizione si pressava 3 5 2 di non possesso si difendeva 3 5 2 offensiva si attaccava 3 5 2 e si attaccava in tanti e questa è sicuramente una buona notizia fa piacere anche perché non sei costretto a inventarti moduli ibridi e infatti a un certo punto cosa fa allegri toglie mccenni inserisce paredes e paredes locatelli insieme riescono per la prima volta o forse una delle primissime volte a coesistere proprio perché non c'era bisogno della scalata di me quindi stasera lisci come l'olio poteva essere una partita in cui potevamo fare anche più gol però io un 4 a 0 della juve non me lo ricordavo a fin troppo tempo ribadisco era solo l'empoli certo però noi il nostro ce l'abbia messo bravo anche allegri a mantenere in campo ken che poi esce per un crampo mi auguro che non sia niente di grave però ken era in serata quindi era giusto fare quella roba lì bello anche il segnale di mettere dentro healing di mettere dentro miretti che ormai fa un gol della madonna purtroppo vicario si è superato con quella parata quindi stasera davvero ho poco a dire l'unica cosa se proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo se proprio vogliamo farla punta al chiodo è che la juventus anche nei primi 15 minuti viene andata benissimo dal ventesimo in poi dal ventesimo al 45esimo quindi la seconda parte del primo tempo non mi era piaciuto tanto invece nel secondo siamo andati veramente aggressivi alti cattivi quindi vuol dire che queste sono scelte tutte le volte diciamo ma è l'allenatore che non che no sono scelte e quindi questa sera si era scelto di essere aggressivi di essere cattivi di pressare cosa che invece nel primo tempo si era scelto di fare un po meno non so per quali motivi e infatti era venute fuori i limiti nella juventus e anche qualche occasione dell'empoli ma sulla carta non c'è stata partita vittoria meritatissima però meritatissima e preparata bene da legri speriamo che possa essere un incentivo per andare in portogallo a fare una partita dignitosa almeno dignitosa perché sarà sicuramente complicata molto più complicata di quella di stasera sono due discorsi a parte però non si può non si può non essere contenti di un 4 a 0 della juve e di questo 4 a 0 in cui veramente la juve ha dato segnale di voglia di chiudere la partita con quanti più gol possibile finalmente finalmente questo è una bellissima notizia cesni voto 6 perché è vero che comunque l'empoli in porta verso la porta l'evento si ha tirato ma di problemi grossi 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 non ne ha recati mi viene in mente nel primo tempo quella parata di cesni perché quadrado regala la palla chi è a destro mi pare destro però per il resto non mi ricordo grandi pericoli sventati da cesni se prende 6 che è il voto non lo so il voto così di incoraggiamento per la presenza spettatore non pagante rugani voto 5 mi dispiace ci saranno pochissime insufficienze all'interno di questa partita ma rugani non mi è piaciuto per niente proprio per niente si è riusciti a concludere con un clean sheet con con rugani che che secondo me ha fatto una brutta bruttissima partita poi domani magari cerchiamo di andare un po nel dettaglio con le statistiche nell'analisi della gara rugani per alcuni momenti della gara ho pensato ma gioca ancora con l'Empoli o è ancora un giocatore della Juventus quindi stasera non mi è piaciuto non mi è piaciuto Danielino 5 bocciato il grande bocciato all'interno di questa partita mi sarebbe piaciuto vedere vedere gatti magari in una soluzione di questo tipo anche per cercare di far di respirare finalmente un po di aria di Juventus dopo le poche che ha fatto fino adesso bonucci 6 avremo modo tempo in maniera di parlare del rinnovo di bonucci della voce che si è diffusa nella giornata di oggi non avevo voglia di discuterne adesso anche perché è anacronistico adesso c'è da parlare della partita non benissimo nel primo tempo poi stringi denti rimane su io pensavo dovesse scendere dopo l'infortunio alla caviglia del primo tempo invece stringi denti rimane su e nel secondo tempo la Juventus secondo me fa una buona partita a un certo punto ci ritroviamo in campo con bonucci che è un palleggiatore locatelli che è un palleggiatore paredes che è un palleggiatore emili che è un palleggiatore quadrado e kostic che hanno un buonissimo piede sui cross lo stesso danilo che è bravo ad impostare quindi c'era un momento in cui la juventus alexandro anche la juventus poteva veramente impostare non c'è stato un grandissimo possesso palla della juve oggi però c'è stata tanta aggressività tanta voglia di andare in avanti tanta voglia di andare in verticale e il fatto che di avere uno come bonucci lì dietro in queste partite qua secondo me è molto importante delle partite di secondo livello e questo già va a indirizzare il mio pensiero sul rinnovo di bonucci poi vabbè dopo ne parleremo poi più avanti nel dettaglio senta danilo mi è piaciuto tantissimo ha fatto credo un errore stasera danilo poi in quello stesso errore è andato a rimediare lui stesso quindi meglio di così si muore e alla fine fa l'assist per il gol di rabbio la doppietta di rabbio il 4 a 0 quindi gli fa anche gli straordinari veramente fa anche gli straordinari danilo bene 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 mi è piaciuto un sacco poi ribadisco da da braccetto di destra anzi da braccetto di sinistra nel primo tempo poi con l'ingresso d'alexandro a braccetto di destra da braccetto comunque di difesa 3 danilo mi piace sempre tanto io non sono amante della difesa 3 per questa io non specifico perché c'è solo quadrado e adesso parliamo un po nel dettaglio nel senso a destra chi ci metti c'è quadrado e quadrado soltanto e probabilmente quadrado anche bisogno di riposare perché il primo tempo di quadrado ragazzi è obrobrioso un obrobrio terrificante secondo tempo invece tanta roba rischia di chiudere con 4 5 assist all'attivo perché poi la juventus si mangia qualsiasi roba veramente qualsiasi roba quadrado fa due assist da fermo uno e la partita prende un'altra piega quando si accende anche quadrado perché nel primo tempo secondo me se nel primo tempo fa gol l'empoli non c'è niente da dire cioè se il primo tempo si conclude o 1 a 0 come è stato o 2 a 0 per la juve perché comunque delle occasioni grosse le avevamo avute quella di meccanico la di ken insomma ce n'erano state però se fa anche un gol l'empoli non c'è niente da dire nel secondo tempo invece secondo me si accende quadrado quadrado veramente un diesel stasera parte molto piano poi sul lungo invece viene fuori e poteva veramente esserci ancora 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 più roba quindi bene quadrado nel secondo tempo male valissimo nel primo se faccio una media con anche gli assist e i palloni che ha messo in totale viene fuori secondo me sei e mezzo una partita veramente dalle due facce quella di quadrado e secondo me se vogliamo giocare con 3 5 2 è un problema perché a destra c'è solo lui lo dicevo l'altro giorno se c'è la possibilità di cedere meccanico probabilmente per per un esterno destro a gennaio lo faccio senza problemi sente costic mi è piaciuto tantissimo costic veramente stasera mi dava l'impressione di poter creare un pericolo in ogni momento con quel suo mancino aveva fatto anche l'assist a ken per la doppietta di ken purtroppo in fuori gioco se costic inizia a essere davvero un pelino più non neanche di tanto ma un pelino più preciso e diventa clamoroso diventa clamoroso perché noi colpitori di testa li abbiamo anche l'altro giorno quando abbiamo fatto l'analisi no della fase offensiva della juventus diciamo la juve fa una brutta fase offensiva ma i presupposti per fare tanti più gol ci sono e mi fa piacere in un piacere incredibile vedere che la juventus ha utilizzato quelle cose che abbiamo detto l'altro giorno quei tutti quei piccoli punti di forza per fare una partita sotto questo punto di vista sotto questo stampo e costic può diventare veramente una spiena nel fianco per tutti soprattutto con la difesa 3 perché lì è veramente il suo ruolo si trova a suo agio set a costic bellissimo l'assist per ken bellissimo poi il taglio di ken ne parleremo ma che palla che palla di costic che bella che bella lettura bravo sei a mezzo locatelli mi è piaciuto loca stasera loca mi è piaciuto in una posizione che tante volte mi ha detto non può essere la sua e ribadisco secondo me non può essere la sua perché poi da mezzala secondo me dal meglio di sé ancora meglio davanti alla difesa nei due però stasera il suo l'ha fatto sempre passaggi di prima o cambi gioco cercare di rubare un tempo agli avversari quindi di velocizzare la manovra di dare un giro in più alla juventus la juventus ha girato perché comunque locatelli l'ha fatta girare mi è piaciuta prova convincenti locatelli è una delle prime volte quest'anno che dico che locatelli mi è piaciuto poi sì ragazzi perché lo so era solo l'Empoli non c'è da esaltarsi la stagione della juve rimane mediocre ma analizzando questa singola partita non posso fare altro che essere super contento di quello che ho visto so che col benfica sarà complicato anticipo i commenti perché so già che li leggerò però io stasera non posso fare altro che essere super mega giga iper contento io qua io qua alzo le mani perché il live reaction nel primo tempo vi ho detto stasera fa gol rabbio ma non potevo immaginare la seconda doppietta stagionale non me la potevo immaginare un rabbio che arriva a quattro gol stagionali non me lo potevo immaginare ma minimamente no si becca sette e mezzo perché se ti fai doppietta il voto va su e nel secondo tempo ha iniziato anche a recuperare dei palloni al di là del gol che non è quello che deve fare non è quello che gli si chiede stato recuperare palloni con una certa continuità e fino adesso rabbio probabilmente è uno se non il miglior centro anzi facciamo così è il miglior centrocampista stagionale della juventus fino a questo momento e sapete bene che non sono un fan di rabbio sapete bene che tante volte vi ho detto io forse ho anche un pregiudizio su rabbio non c'è niente da dire si sta prendendo in mano la juventus sta crescendo in maniera esponenziale proprio quando gli scade del contratto guarda caso a volte a pensare male ci si prende dai scherziamo sette e mezzo sette e mezzo la partita era più sei e mezzo meccenni perché ci sono stati dei momenti in cui mi è piaciuto anche nel primo tempo poi sbaglio un gol clamoroso clamoroso e poi manca sempre secondo me il centesimo per far l'euro però stasera fa gol gol del 2-0 un altro bel gol su calcio d'angolo su gioco aereo che è la sua specialità una fotocopia rispetto a quella col psg e anche questo diceva l'altro giorno sfruttiamola via all'altezza giocatori come meccenni la forza nel gioco aereo giocatori come meccenni e infatti è arrivato meccenni meccenni da mezzala secondo me meglio stasera rispetto a quel ruolo ibrido di finto esterno centrocampista e infatti stasera è stato 3 5 2 puro quasi sempre per 90 minuti e meccenni meglio meccenni meglio più ordinato all'interno della manovra non ancora eccezionale non ancora eccellente non è stata una gara perfetta però sicuramente il gol porta sulla sua valutazione di una partita siccome sufficiente che arriva almeno 6 e mezzo per la bella zuccata non mi è piaciuto tanto vlaovic tanto lavoro sporco da parte di dujan per forza di cose diciamo che ha giocato molto al servizio di moise ken nel primo tempo che non fire poi ne parleremo non mi è piaciuto tanto è l'altro insufficiente insieme a rugani di questa serata però è anche un bel segnale perché ieri fabiana della valle in conferenza stampa chiesto a massimiliano allegri sempre occupato per questa dipendenza da dujan vlaovic intanto che ho appena rivisto il regalone di quadrado che ha fatto a destro mamma mia che regalone è quello che diceva prima quadrado disastroso nel primo tempo sei preoccupato di questa dipendenza da vlaovic e stasera fai la partita in cui avvive la possibilità di segnare più gol la partita in cui effettivamente è segnato più gol e il secondo peggiore in campo è il tuo bomber stagionale il tuo attaccante di riferimento quindi la brutta partita di vlaovic all'interno della bella partita per la juventus di grinta di concentrazione di aggressività cioè una bella notizia dico la verità invece sette a can e mi dispiace dargli solo sette mi dispiace dargli solo sette perché probabilmente avrebbe potuto prendere di più quel fuorigioco millimetrico e vabbè succede però aveva impattata bene nel primo tempo sbaglia un gol di testa che veramente è quasi imperdonabile se ragioni un po' su quella che è stata la falsa riga della juventus fino adesso no che quando il risultato in bilico è un po' un problema a un certo punto sempre nel primo tempo era da solo in area di rigore poteva fare quello che voleva la rimpallata sul difensore quindi poco freddo se vogliamo dal punto di vista della finalizzazione ma che partita dentro la partita ma veramente tanta intensità tanta corsa tanta volontà tanto servizio l'altra volta mi avete detto che sono stato un po' un po' severo con ken nel derby col toro e probabilmente avevate ragione voi a questo punto io c'ho ancora quel quel gol sbagliato su assis di kostic che stasera in cui stasera poi ken si è fatto perdonare che negli occhi che forse mi abbassa la valutazione complessiva della partita ma stasera c'è poco da dire stasera al di là del gol e al di là dei gol sbagliati partitazzo di clan di ken veramente tanta 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 roba tanta 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 roba sei a paredes che entra normale amministrazione l'ho un po' odiato perché ce l'ho titolato al fantacalcio su quella punizione poteva farmi un bel gollettino invece non me l'ha fatto immagino che oggi abbia riposato per essere titolare martedì e ve lo dico già adesso mi piacerebbe tantissimo un 352 con predese locatelli titolari entrambi era più come terzo non so se succederà vedremo sarebbe veramente molto molto bello interessante e sei milic allora sei milic perché comunque la prestazione l'ha fatta ha fatto un buon raccordo ken e milic comunque un attacco che si completa bene milic che la viene a prendere il raccordo ken che va attaccare la profondità poi comunque ken ha avuto quel crampo è entrato miretti quindi milic e miretti sono un attacco un po' particolare anche perché miretti non faceva proprio la punta però milic mi sbaglio un gol di testa lì alla fine milic a un certo punto su una bella stena della juve non mi va a tirare col destro se la porta sul sinistro arrivano lo riprendono e allora dopo finisce tutto e poi ovvio che quando non parti titolare non hai nella testa l'idea di dover giocare la partita è sempre molto complicato quindi da subentrante sempre una roba diversa soprattutto se non devi sudare per conquistare il posto perché ad oggi di fianco a vlovic il titolare milic però dall'altra parte c'è un ken che invece deve sudare per guadagnarsi il posto di scalare gerarchie che ti fa una gran partita e diventa uno dei migliori in campo quindi forse milic ancora si vede che c'è questa fattica mentino che gli ronza intorno però si poteva fare anche meglio si poteva fare anche meglio sotto il punto di vista dei gol proprio perché ken e milic hanno sbagliato qualsiasi cosa e poi c'è anche stato vicario il portiere dell'empoli che ha parato dei tiri incredibili cioè si è superato letteralmente superato su su miretti quando è entrato healing prima palla che tocca in avanti perché oggi siamo andati in avanti c'è il segreto di questa juve che deve andare in avanti è una squadra che deve andare a briglia sciolta questa juventus ce l'abbiamo visto ancora una volta questa sera c'è quella bella palla dei locatelli di prima per miretti c'è quel bel dribbling di miretti in velocità e poi vicario fa quella parata ma davvero stasera ragazzi se magari ne prendiamo uno datene uno all'empoli nel primo tempo perché secondo me uno all'empoli nel primo tempo se lo meritava ma risultato giusto questa sera cioè se finisce a 6 a 1 sta partita non succede niente e qual è la cosa brutta tra virgolette che che a noi questa cosa mancava da troppo tempo e quindi per forza di cose anche una partita facile sulla carta come l'empoli e lo stadium è probabilmente ho sbagliato anno andare a vedere juve empoli l'anno scorso abbiamo perso 1 a 0 quest'anno abbiamo fatto 4 a 0 ho sbagliato anno però anche se una partita semplice in casa tua in serie a contro l'empoli ma perché in questo momento specifico di difficoltà e in questo momento prolungato in cui è difficile vincere con tanti gol di scarto una partita del genere te la porti dentro te la porti dentro alla grande e quindi vi invito a scaricare il numero 10 ancora una volta il link qui sotto in descrizione il mio post partite lì e al termine della pagelle potete andare a vedere quello un abbraccio ragazzi forza juventus